amici sportivi di youtube ben ritrovati juventino periferico con voi allora parliamo parliamo di spalle juventus ma cosa vogliamo parlare cosa vogliamo parlare ragazzi non cambia niente non cambia niente non è cambiato niente abbiamo vinto abbiamo vinto per il rotto della boffia 2 a 1 2 a 1 che dopo la spalle assegnato sul rigore per colpa di rugani rugani uomini uomini le donne solito ragazzi non c'è niente non c'è tanto da parlare primo tempo primo tempo come al solito primo tempo come al solito il film un film horror un film horror basta solita prestazione degli eventus primo tempo tutti tutti che non sapeva cosa fare nel primo tempo mi pareva mesi mesi tutti tutti scamorse tutti scamorse tutti tutti incoglioni al primo tempo sapeva neanche cosa fare primo tempo non importa a primo tempo ragazzi siamo perdere primo tempo film horror tutti incoglioni questo è il mio pensiero va bene chi l'ha capita l'ha capita tanto io sono solo di sono di manica larga penso dico quello che penso primo tempo lo facciamo perdere secondo secondo tempo è un pochino meglio un pochino meglio ripresa ripresa della i ventus nel primo tempo nel secondo tempo la bella una bella juve hanno corso ci sono un pochino un pochino di più impegnati buon 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 bentancur un buon bentancur che è meglio che gioca al posto di pianice pianice non possiamo più vederlo un quadrato un quadrato un quadrato sì sì ma anche se anche se non mi va a genio quadrato che fa una partita e tre è la partita dopo tutte le altre va bene questo e questo è quello che abbiamo quadrato giocatore che si può andare può andare non è tecnico non è chissà cosa però dai ci può stare dai le prestazioni sappiamo come sono Ronaldo Ronaldo allora se non segna lui anzi se segna lui bisogna che segna sempre lui se no non è contento se no si incazza ogni volta e lasciamolo segnare tanto perlomeno segna sempre lui è sempre decisivo Ramsey 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 bello di Ramsey bello mi è piaciuto strano strano nel secondo tempo abbiamo visto una zampata di pallonetto al portiere un pallonetto al portiere proprio bello proprio bello vabbè non mi aspettavo quel gol in pallonetto che era l'unica soluzione per segnare in porta scavalcare il portiere e pallonetto per il resto per il resto ragazzi una Juventus discreta una Juventus da allenamento una Juventus con una partita di allenamento solito perché dobbiamo dobbiamo vedere adesso in Champions contro Lione cosa faremo? una partita contro una partita contro Lione però non ci aspettiamo chissà quale prestazione del genere dalla Juventus solito gioco solito gioco solito non è che cambiamo non è che cambia più di tanto solito sterile ma però ragazzi vediamo la Juventus in Champions ci potrebbe anche sorprenderci in Champions perché è l'unico obiettivo che ci attendiamo dalla Juventus di almeno di fare delle belle prestazioni in Champions il campionato non ci interessa niente però in Champions vogliamo vedere la differenza vogliamo vedere un po' di qualità vogliamo vedere un po' di di velocità però cosa che la Juventus non ha la velocità non ha i tempi di gioco non ha la fluidità di 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 schema non ha niente giocano perché devono giocare però non hanno non hanno sincronismo poche volte hanno sincronismo ma si svegliano solo al secondo tempo al primo tempo possiamo dormire un tempo tranquilli e tanto non cambia niente ma per me la Juventus ogni partita fa sì di annoiare noi tifosi per andare a studiare l'avversario e poi al secondo tempo si sveglia si sveglia dal da dall'incubo da dalla va bene quando si sente lei di di volersi svegliare e di vedere qualche ripartenza un dibala un dibala che è sempre è sempre decisivo è sempre il movimento crea sempre giocate si muove ogni ogni muove ogni penetrazione di campo non si ferma mai almeno lui va va in mezzo all'aria e trova qualche azione Ronaldo sempre decisivo se non scena lui non è contento ad ogni partita e ragazzi solita Juve solita Juve però 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 la vera differenza la vedremo in champions contro lione e da là si vedrà si vedrà la differenza della vera Juve che in campionato non si può vedere che in campionato sempre detto che è meglio che lo vinca qualcun altro e io spero io spero che lo vinca però a dispiacere i prescritti per lo meno anche o per lo meno la Lazio che la Lazio sta facendo un buon campionato per non parlare dell'Atalanta per non parlare dell'Atalanta che in champions ha battuto 4 a 1 il Valencia a parte che il che il Valencia che l'Atalanta ha un altro tipo di di gioco è un'altra è un altro pianeta ha un'altra mentalità di gioco cosa che noi non abbiamo però finché vinciamo ci va bene poi se calerà la il la fortuna ma noi le partite le vinciamo perché dobbiamo entrare in campo e solo vincere la parola d'ordine dell'Eventus scendere in campo e vincere non c'è storia va bene ragazzi noi ci sentiamo e niente ragazzi se volete iscrivetevi al canale tanto non si iscriverà nessuno e niente ragazzi sempre forza Juve e andiamo avanti così dai ancora 3 punti meritati meritati in facendo un gioco discreto e andiamo avanti così ragazzi vediamo in Champions cosa faremo contro il Lione però lì lì si vedrà si vedrà proprio la prova decisiva di questa Juve che il campionato non c'è ciao ragazzi buona giornata non c'è 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 non c'è